Io sono venuto a conoscenza dell'opportunità del Transformative Agreement, quindi del sostegno offerto da parte dell'Università di Siena per pubblicare Open Access, come spesso accade nella mia esperienza un po' per caso. Però questo è accaduto nel momento giusto, perché avevo appena pubblicato un paper su una rivista internazionale e quindi ho sfruttato subito questa opportunità che ritengo essere di grande rilevanza. Pubblicare Open Access è molto importante non solo in generale per i docenti o per studenti e giovani ricercatori, ma dobbiamo pensare a tutte quelle realtà dove è particolarmente difficile accedere a riviste scientifiche di qualità per i costi e per tutte le difficoltà connesse a queste. Quindi credo che sia una grande opportunità che ci offre l'Università di Siena che possibilmente, mi auguro, verrà espansa anche ad altre riviste. Penso che sia importante che i docenti facciano il possibile per sfruttare questa opportunità per pubblicare sempre più spesso Open Access e anzi credo che sia un primo passo in un certo senso perché pubblicare Open Access come dicevo è estremamente importante per tutta la comunità scientifica, ma forse un passo ulteriore, in questo caso lancio un appello a chi di queste cose si occupa, un passo ulteriore potrebbe essere fatto non solo verso la pubblicazione Open Access ma anche verso la pubblicazione Open Data, quindi la pubblicazione non solo dei risultati e della narrazione, della descrizione dei risultati delle nostre ricerche, ma anche il dato grezzo in modo tale che questi possano essere poi riutilizzati dal più ampio numero di persone e questo tra l'altro scongiura uno dei rischi a cui spesso e volentieri Riccardo Francović faceva riferimento, cioè il rischio di dover sempre ricominciare da capo, quindi mettere le nuove generazioni di ricercatori nella condizione e nella possibilità di evitare inutili perdite di tempo e ripartire esattamente da dove la ricerca è arrivata.